mamma mia che Napoli che Napoli che Napoli contro l'Ajazz 10 gol in due partite 10 gol in due partite io rimango stupefatto ogni volta che guardo questo Napoli che fa 3-4 gol a partita di media fissi una roba assurda un calcio spettacolare che non si vedeva da molto tempo Spalletti ha fatto un'impresa con questo Napoli ma questo Napoli ragazzi che è già matematicamente qualificato agli ottavi e tra l'altro quasi da primo al 90% anche da primo posto perché il Liverpool ha bisogno di fare 6-7 gol all'Ajazz oppure deve vincere tipo 4-0 col Napoli nella partita contro il Napoli c'è una roba assurda questo Napoli 10 gol, posso dire anche che la difesa dell'Ajazz penso sia una delle difese più scarse della Champions League ho visto degli errori assurdi la difesa dell'Ajazz però faccio i complimenti a questo Napoli che squadra che Cavaraschkeli è un fenomeno un fenomeno il Giorgiano gol assist è tornato al gol Victor Osiman che Napoli ragazzi che gollasso di Lozano tanta roba applausi per questo Napoli e applausi per Luciano Spalletti ciao ragazzi e bentornati in questo video qui oggi siamo ragazzi nel post partita Napoli Ajax allo stadio Diego Armando Maradona stadio bellissimo oggi veramente spettacolare tutto il pubblico e poi un'atmosfera pazzesca il Maradona ragazzi soprattutto quando è pieno quando Napoli vince c'è proprio te carica ti viene voglia ti casa ti casa ti casa finisce 4 a 2 parlo meglio di tutte quante le giocate perché questa partita potenzialmente potrà finire anche 6-7 a 2 cioè che poi gli hanno dato un rigore all'Ajats inventato come quello ieri sera del tuo amore anzi forse pure peggio quindi se non dava quel rigore potrà finire pure 6 a 1 questa partita potrà finire tranquillamente per tutte le occasioni che ha creato il Napoli prima di tutto ciò un mi piace per supportare questo video un commento di donna la vostra se siete nuovi iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati qui sotto nei commenti mi raccomando qui sotto in descrizione seguitemi sui social instagram piattaformi o tiktok e vi ricordo qua sopra nelle schede a fine video andate a recuperare andate a recuperare i video se vi siete persi e iniziamo subito con il video buona visione vamos e iniziamo subito il Napoli praticamente subito inizia la partita dopo neanche 5 minuti dopo 4 minuti arriva il gol dell'1 a 0 bellissimo Lozano che tenta il tandem con Zielinski quindi Lozano Zielinski Zielinski che lo guarda con la coda dell'occhio l'inserimento di Lozano Lozano di testa la spizza tipo a pallonetto e scavalca il portiere posso dire che il portiere Pavaser è veramente scarso ha fatto degli errori pure lui il portiere è veramente scandaloso ma pure tutto il blocco difensivo Sanchez Blind veramente inguardabile Blind e io me lo ricordo ai tempi me lo ricordo con la nazionale olandese Blind con il Manchester ma è completamente un ex calciatore assurdo passa quindi in vantaggio il gol dell'1 a 0 poi dopo neanche dopo 12 minuti arriva il secondo gol il gol del raddoppio quello di Giacomino Raspadori bello anche questo pallone perfetto di Cavalascheglia vede l'inserimento di Raspadori gliela dà perfetta un assist spettacolare il gol del 2 a 0 e poi arriva anche il gol arriva il gol del del 2 a 1 praticamente al secondo tempo il Napoli che nel primo tempo poteva tranquillamente fare altri gol se non sbaglio non so si ha preso un palo forse vabbè comunque arriva il gol del 2 a 1 al 49esimo un gol di Klassen centrocampista il capitano se non sbaglio centrocampista di esperienza che secondo me è stato forse uno dei salvabili della partita di stasera quelli dell'Ajax è stato quello salvabile e poi diciamo lì diciamo un po' un gol diciamo che il Napoli stava leggermente scoperto è arrivato questo gol stasera mi è piaciuto tanto Juan Jesus è stato secondo me meglio di Kim Kim ha fatto qualche errorino però per il resto secondo me Juan Jesus ha fatto una buona gara a parte il fallo del rigore che però non era fallo secondo me e poi e poi arriva il gol del 4 a 1 del 3 a 1 scusatemi il gol di Cavaraschkelia sul calcio di rigore ovviamente nettissimo il fallo dalla prima inquadratura non sembrava rigore ma hanno fatto vedere un'altra inquadratura in cui inizialmente sembrava che colpisse il gommito destro cioè sembrava che la colpisse il gommito destro ma poi è stata vista un'altra inquadratura si è visto il braccio sinistro largo ovviamente c'è il VAR l'arbitro lo va a rivedere assegna il calcio di rigore questa volta Cavaraschkelia strappa dalle mani del pallone di Osiman il Yerubba praticamente sfila il pallone dalle mani perché voleva tirarlo lui il Giorgiano ma quanto vale Cavaraschkelia? cioè il Napoli ha pagato neanche 10 milioni lasciatemi un commento quanto qualche valore assegnereste voi a Cavaraschkelia se dovete dare un prezzo al giocatore io non saprei dare una valutazione gli darei 70 80 75 non lo so quanto vale boh ipotizzo però non li vale vale di meno però cioè veramente è una roba assurda cioè e poi per non farse mancare nulla l'arbitro deve fare sempre qualcosa sempre gli arbitri tedeschi devono sempre fare qualcosa contro gli italiani come ieri sera con Tomori hanno fatto la stessa cosa anche oggi con il Napoli dando un rigore che secondo me non c'era non c'era perché secondo me quello non è mai rigore e l'arbitro dà rigore si presenta Berguin che la tira a destra di Meret Meret che intuisce ma non la riesce a prendere per pochissimo il rigore di di Cavaraschkelia è bellissimo quasi sotto l'incrocio e poi arriva il gol di Osimman l'ultimo gol è stato veramente un errore del genere manco in eccellenza se vedono questi errori da difesa dell'Ajlson non mi ricordo chi era che ha fatto l'errore forse è a Blind Blind si è perso l'uomo Blind è una maniera assurda arriva Osimman e praticamente gli sradica il pallone di cattiveri oggi Osimman è entrato col piglio giusto è entrato con la voglia di spaccare il mondo e appunto finalmente torna il gol dopo più di un mese che non segnava si leva pure la maglia sotto la curva del Napoli a esultare il gol praticamente lì tra il portiere che stava fuori dai pali veramente stava tipo un frattato fuori e l'errore dei Blind praticamente concedono questo 4 a 1 del Napoli 4 a 2 del Napoli e finisce così la partita con il Napoli 10 gol contro l'Ajax in due partite vado a leggere la classifica il Napoli è prima ha fatto punteggio pieno se non sbaglio il Napoli che ha fatto 12 punti in quattro partiti quindi praticamente punteggio pieno quattro vittorie 17 gol fatti 4 subiti cioè un più 13 di differenza reti più 13 di differenza reti una roba assurda questo Napoli in Champions alzo le mani alzo le mani alzo le mani e niente ragazzi da qui è tutto e noi come al solito abbiamo un prossimo e ben ragazzi sempre comunque forza il calcio e mamma mia madonna mia che Napoli che Napoli ciao ragazzi vamos ciao